E' una camicia e una maglietta, quindi stiamo trovando tutto in questo punto qua. Le cose leggere stanno più avanti, quindi qualsiasi cosa è più a nord-ovest, come avevamo deciso. E' una camicia, è una camicia, è una camicia. E' una camicia, è una camicia, è una camicia. E' una camicia, è una camicia.